Una situazione non più tollerabile è quella delle aggressioni agli autisti dei bus durante le corse serali e notturne. Dopo l'ennesimo episodio ai danni del conducente della linea H2 sul terraglio, picchiato dal protettore di una prostituta per aver cercato di farle pagare il biglietto, i sindacati chiedono all'azienda provenimenti immediati. Quello che chiediamo all'azienda è, quando succedono casi di questo tipo qua, di questa natura, che si dichiari parte civile e chiedere anche il risarcimento danni. Questo sicuramente diventerebbe un deterrente per chi oggi si comporta in questo modo. E quindi dare un segnale diverso che queste situazioni non vengono più accettate. Comportamenti violenti contro gli autisti sono ormai quotidiani ed è ora di smetterla di sottovalutarli, invitano i rappresentanti dei lavoratori. Ci sentiamo abbandonati a noi stessi in una situazione di pericolo sempre maggiore. A tarda ora le persone a bordo degli autobus sono poche ed è molto raro che qualcuno dei presenti intervenga in difesa del conducente. Su certe linee, su certi orari, sarebbe utile ripristinare anche il bigliettaio in modo tale, primo perché è di supporto e di aiuto all'autista, un controllo del mezzo e soprattutto, e non guasterebbe, anche un'attenta visione di chi paga e chi non paga il biglietto e sicuramente questi si pagano lo stipendio con il recupero dall'evasione.